Ehi, un saluto da dottor Palmas, è aperta ufficialmente la borsa di studio dottor Palmas, dove avrai la possibilità di entrare nel mio ambiente dinamico. Io cerco medici, giovani, odontoiatri italiani da inserire nella mia clinica di Bergamo. Avrai l'opportunità di crescere in un ambiente dinamico nella multinazionale dei dentifissi. Cerco persone che siano capaci di fare visite, diagnosi, saranno affiancati da me personalmente in quella che è la stesura dei piani di cura complessi e soprattutto l'analisi dei casi complessi. Persone brave si diventa. E la migliore tecnica per diventare bravi è affiancarsi a persone che hanno già una grande esperienza e iniziare a crescere dal basso, come ho fatto io in passato. Io mi sono sempre affiancato a professionisti di grande esperienza e ho iniziato proprio da lì, dall'analisi dei piani di cura, dall'analisi delle radiografie, dall'analisi delle TAC, vedendo quelli che erano i casi reali e insieme a colleghi più esperti, con più esperienza, fare tavola rotonda e capire come vanno curati i casi complessi. Ad oggi è difficile inserire nell'equip persone che hanno già la loro forma mentis, che hanno già i loro pensieri. È molto più facile invece formare giovani, neolaureati, che hanno le ali sotto i piedi, che vogliono crescere, che vogliono integrarsi in un team magari multinazionale come la nostra realtà, ma per fare questo occorre, come dire, rimborcarsi le maniche, fare bootstrapping e con le proprie poche risorse iniziare a, come dire, lavorare sulla propria crescita di esperienza professionale. La borsa di studio, dottor Palmas, è retribuita, retribuita anche piuttosto bene. Quindi se sei un giovane, neolaureato, che ha voglia di entrare in un ambiente multinazionale, questa è una grande opportunità. Contattami privatamente, troverai poi la mail dove potermi contattare. Io farò i colloqui singolarmente con tutti e tutte le persone che mi contatteranno e selezionerò due figure che saranno praticamente due persone che io seguirò per un minimo di un anno, fino a un massimo di tre anni, che è il tempo che io ritengo essere minimo per poter entrare nella mia realtà. Ti ricordo che la sede di svolgimento di tutto il programma formativo è la Clinica di Bergamo. Cerco ragazzi giovani, dinamici, tecnologici. Tieni conto che noi siamo un'azienda digitale, lavoriamo col cloud, abbiamo dipartimenti di telemedicina, abbiamo tutto un apparato che è difficile trovare in giro, in circolazione e serve gente che sappia usare il computer, dalla macchina fotografica, che sia un buon medico, che sia una persona con le conoscenze, che abbia anche una buona manualità, un'ottima manualità. Se vuoi saperne di più, quindi contattami qua sotto. Non mi servono persone che già hanno anni e anni e anni di esperienza. Io cerco le persone giovani che hanno intenzione di diventare grandi. Quello è il profilo che io cerco. Persone che siano motivate, come ero motivato io dopo la laurea, che abbiano voglia di crescere, di studiare, di viaggiare, per cui prendere un aereo non è un problema, stare un anno fuori da casa non è un problema, cerco le persone che hanno le ali sotto i piedi. Se sei quel tipo di persona, contattami o se conosci qualcuno che ha questo profilo, contattalo, mandagli questo video, mandagli questo messaggio e dopo scoprirai quanto è profonda la tana del bianconidio. Un saluto da Dottor Palmas.